buongiorno e bentornati sul canale oggi dopo un po di tempo torniamo a parlare di domotica e della nostra casa smart per poter entrare nuovamente in questo argomento oggi andiamo ad analizzare uno degli ultimi articoli che sono stati presentati dalla nostra casa preferita la shelly o meglio alterco robotics che prima di tutto devo ringraziare perché mi ha inviato questi due articoli gli ultimi due che ha presentato per poterli testare e portarveli sul canale per poter spiegare esattamente come funzionano prima di procedere però vi inviterei a lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale è un piccolo gesto che a voi non costa nulla ma a me serve molto per crescere ma vediamo meglio di che articolo si tratta allora oggi andremo a parlare dello shelly e centi humidity and temperature scusate l'inglese di cosa si tratta è un sensore di temperatura e umidità se qualcuno conosce la marca shelly saprà che erano già presenti questi articoli ma adesso questa è la versione plus ovvero l'hanno migliorata allora andiamo ad aprire la confezione come vedete è molto piccola in stile shelly con quello che c'è disegnato al suo interno guardiamo insieme che cosa c'è dentro allora niente di speciale partiamo con i soliti codici a barre con le istruzioni un'etichetta adesiva se si vuole attaccare sul muro lo shelly il libretto di istruzioni che c'è anche in italiano ed ecco a voi il sensore di temperatura shelly plus dopo andiamo meglio ad analizzare come fatto e come ha costruito proseguiamo nel vedere cosa c'è all'interno della scatola beh quasi niente più c'è solo un piccolo scatolino con il suo interno il supporto da tavolo la prima cosa da fare dopo che l'abbiamo tirato fuori dalla scatola è andare ad inserire le batterie si questo sensore funziona batterie ma vediamo meglio al suo interno per aprirlo c'è una tacchetta sottostante con indicato pen here facciamo leva con le unghie o con un cacciavitino e vediamo di aprirlo al suo interno io le ho già messe ci vanno quattro stilo oltre ad andare a batterie questo sensore può essere alimentato anche a corrente direttamente infatti sul lato della scocca del sensore c'è posizionata una usb c serve per alimentarla e adesso vi spiego perché essendo a batteria il suo funzionamento dichiarato è di circa un anno però vabbè se non è un anno sarà poco meno magari nove mesi ci arriva sicuramente però a batteria lui invia il segnale al cloud ogni volta che c'è un significativo cambiamento di temperatura umidità quindi non costantemente perché sennò azzererebbe la batteria troppo in fretta in questo caso interviene l'alimentazione usb ovvero sempre alimentata se noi l'alimentiamo con con l'usb direttamente lui sarà perennemente connesso al cloud e perennemente invierà i suoi dati al cloud per poi noi visualizzarli nella corretta applicazione come abbiamo visto prima all'interno della confezione c'era il piedino per posizionarlo per farlo diventare da appoggio sul retro del nostro sensore ci sono due buchi cosa servono qui è per poterlo tassellare al muro ovvero possiamo installare due piccoli tasselli piccolini al muro e fissare il nostro shelly a muro per averlo sempre a portata di vista far sì che non ingombri all'interno della nostra abitazione oppure possiamo usare questo supporto che viene inserito all'interno dei buchi predisposti per infilaggio a muro per poterlo poi posizionare su un mobiletto di casa per far sì che sia comodo è facile spostarlo e poterlo spostare da stanza in stanza se avessimo bisogno ma adesso che abbiamo visto come è fatto vediamo di capire che cos'è e a cosa serve allora come vi ho anticipato lui è un sensore che cosa vuol dire che visualizza sul suo schermino i dati di temperatura e umidità presente in questo ambiente l'altro simbolino che vedete è la qualità del segnale che cosa ne facciamo noi di questi dati che vengono visualizzati la temperatura e umidità come avete visto sul titolo del video lui può diventare un termostato vero e proprio della nostra abitazione che cosa si intende per termostato che al variare della temperatura all'interno della nostra abitazione può accendere o spegnere il riscaldamento di casa e in più questa versione può fare anche da umidostato ovvero può ad andare ad intervenire sui determinati valori oppure se avete un deumidificatore all'interno della vostra abitazione possiamo andare a comandare esattamente quello e come si fa tutto ciò non è come un termostato vero e proprio non ha dei contatti al suo interno ma per far sì possiamo usare il mondo shelly ma ora per poter capire esattamente le sue potenzialità ci spostiamo sul cellulare e vediamo di collegarlo alla nostra app shelly allora il collegamento è semplicissimo è come tutti gli altri dispositivi shelly anzi da quando ci sono questi nuovi dispositivi shelly plus con la nuova scheda logica con il bluetooth è ancora più veloce non c'è una volta che sbaglia l'accoppiamento ed è semplicissimo mentre farete l'associazione alla vostra applicazione shelly cloud dovete fare attenzione una cosa lui essendo alimentato a batteria ogni tanto va che vai e troverete esattamente questa situazione dopo che verrà associato al vostro wifi per poter far sì che di continuare a programmarlo dovete aprire il vano posteriore del portellino di fianco al pacco batterie c'è il tasto reset esattamente vicino al usb c cosa serve allora se lo teniamo premuto a lungo reset il dispositivo completamente cancella tutta la memoria al suo interno se lo premiamo una volta sola lo risveglia ovvero lo fa connettere wifi e inviare i dati al cloud che così potete continuare la programmazione ma ora andiamo avanti ora che abbiamo associato correttamente il nostro di sensore di temperatura shelly alla nostra applicazione shelly andiamo nell'applicazione shelly ed andiamo nella stanza in cui abbiamo posizionato il nostro sensore io in questa stanza ad esempio in nella stanza prove e vediamo che c'è proprio shelly plus hnt in cui viene visualizzata la percentuale di umidità la percentuale di batteria all'interno di esse e la temperatura che esso rileva 27 gradi adesso smanacciandola per recensioni per provare tutto è fatto salire notevolmente la temperatura diciamo che funziona bene ed andiamo a cliccare su di esso e vediamo subito che cosa succede allora vedete i dei grafici di temperatura e dei grafici di umidità con al di sotto di essi la scritta download che cosa significa adesso non ho uno storico abbastanza significativo per poterlo volere scaricare ma se abbiamo per esempio tutto l'inverno vogliamo vedere i picchi e gli sbalzi di temperatura o di umidità che ci sono stati all'interno della nostra abitazione possiamo semplicemente venire qui schiacciare download e ci verrà scaricato l'elenco di tutte le variazioni in temperatura che lui ha rilevato all'interno di noi all'interno di questa cosa poi c'è la sezione impostazioni allora andremo velocemente perché le impostazioni più o meno di tutti gli dispositivi scelli sono pressoché uguali guardiamo solo quelli che interessano il nostro sensore vero e proprio tipo unità di temperatura possiamo scegliere se possiamo andare in gradi centigradi o fahrenheit soglia di temperatura la temperatura in questo caso c'è visualizzato 0 5 indica ogni quanto al variare della temperatura in questo caso mezzo grado invierà i dati al cloud che cosa vuol dire se nel vostro appartamento in questo caso è molto isolato quindi la temperatura su interno cambia molto se lasciate 0 5 va più che bene se invece ci sono sbalzi di temperatura enormi potete anche aumentarlo così preserverete un po la batteria di esso stessa cosa vale per la soglia di umidità e poi tutte le altre cose sono sempre più o meno le stesse nome dispositivo del firmware il riavvio il condividi per condividere questo sensore con altre cose impostazioni applicazione per poter riscrivere registro eventi ma niente di che la rete wifi che si può inserire al suo interno esattivare disattivare bluetooth le solite cose che si possono fare con un dispositivo shelly le nostre cose guardare all'interno delle impostazioni non sono un granché vediamo più nello specifico di spiegare a cosa serve questo bellissimo dispositivo allora oltre che essere di design e dimostrarvi la temperatura noi con lui possiamo andare a interagire con la famiglia shelly per andare a comandare al determinato variare della temperatura o determinato variare dell'umidità degli oggetti e per fare questo cosa dobbiamo fare beh dobbiamo creare all'interno delle app shelly delle scene in cui imposteremo che al variare della temperatura al di sopra o al di sotto al variare della dell'umidità al di sopra e al di sotto di una certa soglia che voi imposterete andremo a comandare un altro dispositivo shelly in questo caso si può interagire con più cose allora ad esempio facciamo un esempio classico in un appartamento andiamo a comandare la caldaia ovvero se al di sotto dei 20 gradi d'inverno facciamo partire la caldaia quindi imposteremo che al di sotto della solita temperatura 20 lui darà il comando ad esempio uno shelly 1 che ha il contatto pulito e questo shelly 1 andremo a posizionarlo sotto la caldaia che unisce il contatto pulito che fa accendere la caldaia e questo diciamo che è abbastanza comodo stessa cosa se dovessimo avere un deumidificatore all'interno dell'ambiente che al variare dell'umidità accenderà o disattiverà il deumidificatore all'interno di questo ambiente il funzionamento è lo stesso e anche le impostazioni interno dell'applicazione shelly sono sempre le stesse facciamo un altro esempio allora la marca la ditta shelly produce anche delle valvole termostatiche da montare sui caloriferi se ad esempio nel vostro nella vostra abitazione abitate in un condominio non potete andare a comandare direttamente la caldaia voi dite come cavolo faccio a regolare il riscaldamento in questo caso ci vengono in aiuto le valvole termostatiche della shelly allora come ho detto prima al variare della temperatura lui al posto che andare a comandare lo shelly 1 che chiuderà il contatto di accensione della caldaia andrà a comandare le valvole termostatiche che ci sono posizionate sui caloriferi così in un determinato ambiente se scenderà troppo la temperatura lui aprirà le valvole dei caloriferi inizierà a farle scaldare allora non voglio dilungarmi troppo se avete bisogno e volete dei chiarimenti su come fare a programmare questi tipi di abbinamenti o degli esempi non esichitate a chiedermelo che mi organizzerò per fare un video dedicato adesso bene è ora di tirare le somme allora cosa ne penso di questo sensore allora io l'articolo che era presente nel listino prezzi della shelly non ce l'avevo e non ne avevo effettivamente mai avuto la necessità di acquistarlo questo mi è sembrato molto carino e ho cercato di averlo e di acquistarlo e di farmelo mandare hanno migliorato delle cose sì allora prima per prima cosa in quello di prima non c'era uno schermo ed era solo un sensore da appoggiare e poi andare a vedere sull'applicazione la temperatura che misurava in più hanno integrato direttamente la ricarica usb anche in quello di prima esisteva ma andava a un accessorio a parte che permetteva di alimentare al posto che ha batteria a corrente direttamente il sensore per far sì che come inviasse più velocemente più spesso i dati al cloud direi che l'hanno fatto anche veramente carino quindi lasciandolo d'appoggio su qualunque mobile o dovendolo spostare da un locale all'altro effettivamente merita se avete bisogno di qualsiasi chiarimento o di qualsiasi informazioni necessarie per poterlo programmare non esitate a lasciare un commento qui sotto o a contattarmi direttamente e noi ci vediamo alla prossima